qui scenderanno per l'appesatura delle botte è l'obiettivo della corsa di certi che determina la grecia di partenza della corsa delle botte e il peso di ciascuna botte esattamente, le botte hanno tutti i pesi differenti e adesso andremo a pesare una d'una grazie a tutti Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti.